James Flex Lewis è ormai una leggenda del bodybuilding, più nello specifico della 212, cioè quella categoria nella quale i bodybuilder non devono superare le 212 libri che mi pare siano 96 kg. Ed è quindi un bodybuilder gallese nato nell'83, quindi ancora relativamente giovane, ha quasi 36 anni dal momento che è nato a novembre. E la cosa che lo contraddistingue è il fatto che ha vinto per 7 volte consecutive la categoria 212 del mister Olimpia. Ovviamente ha vinto anche altre gare, altri contest, però come ben sappiamo l'Olimpia è il picco della carriera di un bodybuilder, anche se non è la Open, comunque sulla carta la 212 è ancora la categoria più importante dopo la Open, anche se si sta facendo strada il Classic Physique, che però rimane secondo me ancora un po' indietro rispetto alla 212, che è fondamentalmente una versione ridotta della Open. Comunque, lui è alto 1,66 m, è in gara ovviamente, pesa circa 212 libri e in off-season circa 236 libri che sono sui 107 kg. Comunque, senza parlare troppo nello specifico della sua carriera, lui ha vinto la Pro Card nel 2007, quindi aveva solo 24 anni, ai British Nationals e poi è andato con un bel po' di posizionamenti, dal molto buono al così così, cioè Europa Pro 202 nel primo posto, Atlantic City Pro sempre al 202 primo posto, poi British Grand Prix nel 2011 sempre primo posto nel 202, poi dal 2011 dove si è beccato un secondo posto nella 202 New York Pro un quinto posto all'Armond Classic Europe e un secondo posto al Mister Olimpia, da quel punto in poi si è beccato solo a primi posti, in sostanza. Quindi, una carriera davvero degna di nota per un bodybuilder che ha dominato la 212 negli ultimi sette anni, cioè dal 2012 al 2018, quando si è ritirato dalla 212, è c'è da dire che in questi anni, soprattutto nel 2014, è diventato il primo bodybuilder a essere il vincitore della 212 per quanto riguarda l'Armond Classic. Quindi, adesso, dopo questa serie di risultati ottimi, come bodybuilder della 202 prima e la 212 poi, ha deciso di ritirarsi da questa categoria per concentrarsi nella Open. Quindi, in base a quello che ha detto, lui non gareggerà quest'anno, nel senso 2019, in generale, è al Mister Olimpia, salvo novità, e cercherà di prepararsi per gareggiare nella Open nel 2020. Almeno, questi sono i suoi piani. E cosa possiamo dire su questa cosa qui? Lui, comunque, è un bodybuilder molto basso. Per farlo a breve, un William Bonac è alto 1,70 m, quindi 4-5 cm più di flex. E sappiamo come sia difficile con un bodybuilder basso cercare di gareggiare con i Mass Monster, quindi cercare di mettere molta massa in più, magari a discapito della presentazione, dell'estetica, del flow, del fisico, quindi nel modo in cui viene presentato un fisico senza risultare grottesco. Infatti, uno dei problemi di Bonac è quello che cerca di mettere più massa possibile e certe pose non gli riescono benissimo. Per quanto io pensi che sia uno dei migliori, è tra un Rollie Vinclar e un Bonac, scelgo sempre Bonac, molto molto completo. Quindi, non mi aspetto di vedere un Flex Lewis nella Open ridimensionato e rivoluzionato. Non penso che arrivi a pesare, che ne so, 120 kg o chissà quanto. Io lo vedo bene, più o meno, nel suo range, senza superare magari 110 kg, forse anche di meno, perché uno dei suoi punti di forza è sicuramente la definizione. E se vi guardate i filmati delle sue pose in routine, magari certe pose non sono il top, certe zone muscolari non sono il massimo. Io penso soprattutto alla conformazione degli addominali e un po' della lower back. Però, c'è da dire che la sua definizione è sempre impeccabile. Quindi è un bodybuilder molto molto completo. E se giocasse al gioco della massa per inseguire quelli più grossi, secondo me perderebbe quest'arma in più che lui ha. Cioè è una definizione ottima, che oggigiorno si vede molto molto raramente. E io parlo soprattutto della faccia scavata quando gareggia. Perché ormai gente che ha la dead face, gli zigomi scavati, ce ne sono davvero pochi. In generale, a precine che sia Mister Olimpia o qualsiasi altra gara. Quindi spero che non cerchi di esagerare con le masse a discapito della definizione e delle linee. Poi, parlando anche d'altro, oltre questa precisazione personale su come lo vedo io nella open, io penso che potrebbe fare bene se non esagera con la massa. Quindi non so se potrebbe vincere, però potrebbe fare bene. Lui comunque se la passa molto bene, perché dopo essere un campione, Mister Olimpia per sette anni, qualche soldo se l'è fatto. Ha vinto anche l'Arnold Classic nel 2014. È allenato da Neil Hill, che sappiamo che è uno dei coach più importanti nel bodybuilding. Segue anche William Bonac e in teoria anche Big Rami, anche se si sta dicendo che forse hanno smesso di lavorare insieme. E poi è sponsorizzato dalla Yamamoto, che sappiamo che è una casa di integratore italiana, che non capisco come non mi abbia ancora messo sotto contratto per tutto quello che sto facendo per il bodybuilding in Italia. Quindi contattatevi a Yamamoto e ditegli di farmi un contratto, anche se non mi dopo. Quindi almeno mandarmi gli integratori. Poi possono anche non mandarmi i soldi. Poi sponsorizzato anche dalla Monster Energy, che cazzo, è una compagnia enorme di bevande energetiche. In più ha la sua palestra personale, che si chiama The Dragon's Lair, quindi la tana del drago, e vive a Boca Raton in Florida. Molte compagnie, non so perché, si sono trasferite a Boca Raton o comunque in Florida. Forse c'è qualche regime fiscale facilitato. Ad esempio anche la Redcon è a Boca Raton, a Miami, e c'è Miami in Florida. Anche, mi sa, Dave Palumbo di Alex Muscle si è trasferito da New York a Boca Raton, mi sembra, proprio comunque in Florida. Anche Dallas McCarver, per via dell'associazione con la Redcon, si è trasferito lì. Quindi forse è per quello che anche lui vive in Florida e ha la sua palestra personale lì. Poi non so bene se faccio la personal training lì o se la apra a poca gente, perché ogni tanto c'è qualcuno che va a allenarsi lì. Mi viene in mente John De La Rosa, tra gli ultimi che si sono allenati. Però, se guardate il suo canale YouTube, ci sono molti video con persone che vanno a Dragon's Lair e si allenano lì. Mi sa che c'era anche un wrestler, Braun Strowman. Poi un periodo c'era Martin Ford, quel tipo che era amico di Rich Piana, quel tipo inglese, lo stesso. Quindi diciamo che Flex non se la passa male. È anche sposato, ha una figlia. Credo che abbia un po' di soldi, probabilmente potrebbe anche ritirarsi a questo punto dal bodybuilding e vivere di sponsorizzazioni, apparizioni, personal training e compagnia bella. Però, probabilmente gli interessa cercare di fare qualcosa nella Open e io penso che potrebbe fare bene. Contando che non c'è grande competitività adesso nella Open, che Sean Roden ha 43 anni e anche altri bodybuilder non sono giovanotti. Cioè, anche Rolly Winkler credo che abbia più di 40 anni. Philit chissà se tornerà. L'anno prossimo dovrebbe gareggiare anche Regan Grimes, che comunque è molto giovane. Quindi, secondo me, potrebbe essere una bella sorpresa. Comunque, fatemi sapere che ne pensate sia di Flex, a me sta molto simpatico, come persona, come bodybuilder e anche cosa potrebbe fare nella Open. Buona!